Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Soraya. Dopo l'annuncio di Luca Salatino sulla fine della loro storia d'amore. Ha preso una decisione che sta facendo preoccupare i fan. Luca Salatino e Soraya ci hanno fatto sognare ad uomini e donne. Il loro percorso all'interno del programma è stato ricco di alti e bassi ma si è concluso alla scelta con il lieto fine. Sono usciti insieme e sui social hanno più volte riportato la loro storia d'amore mostrandosi insieme in spazi quotidiani. Il pubblico si era affezionato particolarmente alla coppia ma a quanto pare la favola si è spezzata. Pochi giorni fa Luca ha annunciato la rottura attraverso una storia Instagram. Già da settimane si parlava di una crisi in atto. In cui si vociferava della presenza di un altro uomo nella vita dell'ex corteggiatrice. Voci che si sono fatte sentire anche durante la permanenza dell'ex tronista nella casa del GF VIP. Dopo che quest'ultimo ha fatto sapere della rottura. Anche la giovane è intervenuta sul suo canale social. Ha innanzitutto chiesto di ricevere rispetto da parte di chi la segue. Smentendo in seguito la notizia di un suo nuovo amore. Ha specificato di non avere un'altra storia con un importante imprenditore di cui da giorni si parla. La scelta di chiudere con Luca è stata inevitabile ma sofferta. Nelle ultime ore però un'altra decisione dell'ex corteggiatrice ha spiazzato chi la segue tanto che i fan hanno cominciato a preoccuparsi. Luca Salatino e Soraya si sono lasciati. La decisione dell'ex corteggiatrice spiazza. In questi giorni non si parla d'altro. Dopo le numerose voci che parlavano di una rottura tra Luca Salatino e Soraya Ceruti, la conferma è arrivata da parte dell'ex tronista. Lo ha fatto sapere in una storia Instagram. Tra me e Soraya è finita. Vi prego di rispettare questo momento. Vi voglio bene. Luca Con queste parole ha annunciato la fine della sua storia nata all'interno di uomini e donne. Nelle ultime ore però proprio la sua ex fidanzata ha preso una decisione del tutto inaspettata. A quanto pare ha deciso di blindare il suo profilo Instagram. Rendendolo privato a chi non la segue. Una scelta forse fatta come una forma di protezione. Il motivo è da legare alle continue voci sul suo conto che parlano di una relazione con un altro uomo. Iniziata durante la permanenza del suo ex nel grande fratello Vip. Molti utenti hanno lasciato le segnalazioni all'esperta del gossip. Dejanira Marzano. Mostrando addirittura alcune foto in cui c'è lei che entra nell'auto di un ragazzo. Soraya ci ha tenuto a specificare. Dopo che la rottura è stata confermata. Di non avere un'altra frequentazione in corso. Ha smentito categoricamente il tradimento sottolineando il fatto che Luca è a conoscenza della verità. Al momento però ha deciso di rendere il suo profilo pubblico solo alle persone che la seguono. Oscurandolo così agli altri. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video.